Presidente, buon pomeriggio, Duilio Calarco della RAI Siciliana, complimenti per l'organizzazione del G7 che fra l'altro la vedeva al debutto. Le volevo chiedere, considerato che la veterana del vertice è stata Angela Merkel al suo dodicesimo summit e che in soli 25 anni dalla caduta del muro di Berlino la Germania è riuscita a riunificare una nazione in modo omogeneo tra ovest ed est, mentre l'Italia in oltre 70 anni di storia repubblicana non è riuscita a ridurre il gap tra nord e sud con un paese che viaggia a velocità diverse non solo in modo metaforico, considerata che l'alta velocità nel meridione si ferma a Salerno. Le volevo chiedere come intende l'esecutivo che in tre mesi ha cambiato volto a Taormina dimostrando che volere e potere nulla è impossibile, continuare il suo impegno per la Sicilia è una terra che ha dato i Natali alla prima e alla seconda carica dello Stato e che da sempre crocevia di popoli e civiltà come lei giustamente ha sottolineato nel suo editoriale per la Gazzetta del Sud. Grazie. Sì, naturalmente preparare bene il G7 a Taormina e fare le opere che sono state necessarie, ringrazio il prefetto, ringrazio Maria Elena che è qui, che ha dato una mano di supervisione da Palazzo Chigi, non è la stessa cosa che risolvere la questione meridionale, diciamo che sul prolungamento dell'alta velocità ci stiamo attrezzando, nel senso che ci sono investimenti previsti che mi auguro possano portare a correggere questo che lei ha senz'altro ragione, è uno dei nostri squilibri. Più in generale devo dire, io ho parlato spesso con, più di una volta, mettiamola così, con la cancelliera Merkel di questo argomento, perché non c'è dubbio che la Germania ha una storia di successo nel superamento delle differenze tra Germania ovest e i lender dell'est. Forse uno degli elementi di questo successo è stato la capacità di mettere in campo un piano straordinario di investimenti e mi auguro che questa logica del piano straordinario di investimenti sia contagiosa e che si prolunghi in Germania anche ora che le differenze tra le due parti del Paese si sono ridotte, perché di questo beneficerebbe l'intera economia europea.